Ispira, espira, ispira, dormi, mi lascia, ti lascia più andare abbandonato. Quindi questa buona persona può entrare anche in uno stato, chiamiamolo così, più sonnambulico. Le tue gambe possono stare forti e tu puoi stare in piedi. Puoi rimanere in piedi e ascoltare il suono dei miei piedi. Ora, tra pochi istanti, ogni volta che stringo la mia mano così, i tuoi occhi si chiuderanno e scenderai ancora più profondamente all'interno di te stesso. Numero 3, apri gli occhi. Uno, due, tre, apri gli occhi, guardami, guardami. E questo è un ancoraggio con un legame con il quale possiamo riportare la persona. Questo si può usare a numero 3, apri ancora gli occhi. Uno, due, apri gli occhi, apri gli occhi, tre, lì, via via, scendendo ancora lì. Segnali di trance. Numero 3, apri gli occhi. Uno, due, tre. Guardate gli occhi, sono più rossi del normale. Prima gli occhi erano sbarrati, adesso gli occhi sono leggermente, da giù ci dovete credere, hanno gli occhi più rossi del normale. Perché hanno, qui lo vedono tutti, il soggetto sta entrando. Grazie. 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 Grazie.